Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di quel taleale, eccoci qui di nuovo con WRC Generation Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi pronti per l'ultimissima tappa del Rally del Belgio Siamo in un buon vantaggio, abbiamo più di un minuto di vantaggio dal secondo Siamo pronti ad affrontare quest'ultima tappa per accumulare anche un pochino di moneta Perché signori, come sempre, siamo sull'astrico con il nostro buongino Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare il canale Siate sportiveggianti, commentino tattico come sempre Qui i castelli del Belgio, la nostra auto che... Arriva? Arriva, arriva Pronti, pronti? Allora, 12 chilometri signori, preparatemi, dai 3, 2, 1, via Secca destra 30 e secca sinistra taglia pronto 80 Vai Secca sinistra taglia poco 80 Non c'è un altro puntino qui Secca destra In destra piena e sinistra 3 E destra 4 chiude, non tagliare, in sinistra 3 E destra piena in attenzione, sinistra 2 molto lunga E destra 4 Uh, è un stretto troppo lì, la... In sinistra non tagliare 30 Ma non finiva più Destra 3 media chiude E sinistra 3, in destra 4, non tagliare, chiude In sinistra 3, 50 Sinistra 5 taglia poco In destra 5 e sinistra 5 lunga Non sono proprio 5 queste, franco In destra 6 lunga, 50 Sinistra 5 corta, in destra 4 media chiude E sinistra 4 chiude, 80 Va bene, va bene Non è successo niente Non abbiamo manco sfondato la macchina Dai Un po' su due ruote ma così per il pubblico Ok, in destra 5 chiude E sinistra 4 media, attenzione, freno pesante Secca destra attraverso a 300 Adesso un pochino ci sta E attenzione, freno pesante Secca sinistra stringe, 150 A fil di palo, attenzione Attenzione, secca sinistra, non tagliare E sinistra 4, in destra 3, taglia, 30 Attenzione, secca destra, taglia poco, 50 Attenzione, sinistra destra, taglia poco, in destra piena In sinistra 4, taglia poco E secca destra, non tagliare E sinistra destra 4 Prena in secca sinistra, taglia poco Sinistra destra 4, e secca sinistra, 80 Destra 4, taglia E sinistra 4, taglia molto, 100 Destra 4, taglia 80 Sinistra 3, non tagliare, 30 Destra 4, taglia poco, 250 Quale stile Sinistra 5, freno pesante, intornante sinistra, non tagliare In secca destra, 250 Sinistra 5, media Dai, dai Sinistra 5, media, chiude, 30 Destra 6, in sinistra 5, media Donna, già mi stavo vedere appiccicata all'albero Attenzione, freno pesante, secca destra E sinistra 4, in destra 4 In sinistra 3, e destra 3, apri E destra 5, corta, in sinistra 4 In destra 4, stringi, e secca sinistra In sinistra piena, media, stai al centro, 30 Destra 6, corta, sudosso, e sinistra 6, 50 Destra 5, corta, in sinistra 3, media In destra 4, lui Oh, 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 oh E che cos'è? Vai, franco, un po' niente Poi ci facciamo, ci fai una sessione dal fisioterapista e passa tutto Attenzione, freno pesante, secca sinistra, molto stretta In destra piena, tieni Se la strada al contrario, la pista ciclabile, insomma Poi in salita Attenzione Che in realtà è meglio in salita che in discesa, eh Tra l'altro per E sinistra 3, media, in destra 5, media, chiude 2 E sinistra 2, in destra 3, media In sinistra 2, taglia poco, 80 Eccolo lì, il castellone In sinistra 4, lunga E destra 4, media, in sinistra 4 In destra 4, media, chiude 2 In sinistra 3, media, in destra 3 Non era proprio giusta, non lì, franco, dai Ho capito che sei un po' approssimativo a segnare le note, però In sinistra 3, taglia poco, in sinistra 2, 30 Destra 3, in sinistra 2, media, non tagliare In destra 2, tieni, in secca sinistra, 30 Destra 2, e sinistra 2, media E destra 3, chiude, media E sinistra 2, in destra 2 Attenzione, dosso all'incrocio, in destra 4 E sinistra 5, chiude, in freno pesante, tornante sinistro, casa interna In destra piena, 50 Salve ghiari Secca destra, taglia poco, in destra 3, 100 Destra 5, chiude, in sinistra 4, corta E sinistra 5, e destra 5, media Attenzione, freno pesante, in secca destra, 100 Secca destra, non tagliare, 100 Oh, i campi, i campi Sinistra viene in destra 6, taglia poco, 50 Attenzione, freno pesante, secca sinistra, 50 Sinistra 4, media, chiude E destra 4, in curva, taglia Attenzione, freno pesante, secca destra E sinistra 3, in destra 2, non tagliare, 30 Sinistra piena, in destra 3 E destra 2, in sinistra 2, media, chiude, 30 Sinistra 3, in destra 3, media, e sinistra 3, lunga In destra 2, tieni in sinistra piena E arrivo Dai Oh, ben rally qui in Belgio, eh Abbiamo spaccato i culi a tutti Grande così, grande così Mo' vediamo un attimino a livello di soldi come stiamo messi Perché quello è il punto leggermente cruciale, eh Piccolo dettaglio Che stiamo lì, lì per fallire male Vai, vai, con l'invio dei dati qui Te Guarda lì, 23 secondi aggiunti, un minuto e mezzo di vantaggio per il nostro Gino Pino No, Gino della Pino e Francone, dai Dai, dai Grande, grande rally per i due della Hyundai Ma con la Hyundai dove vai? Lascia fare, che Allora, adesso vediamo un attimino a livello di moneta come siamo messi Siamo messi bene in campionato, eh Mancano 4 rally Abbiamo un po' di punti di vantaggio Vediamo Dateci una manicata dei soldi Perché sennò qua non andiamo avanti, eh L'auto, meno 23, stava a 2 di resistenza, figurati E' esplosa Ok Entrate, uscite a livello monetario Stato un'emorragia di capitali sto VRC comunque Allora Stato dell'auto 0%, sta per implodere Gestione squadra Hanno raggiunto il loro massimo livello da adesso Sono state spostate nella riserva E va pure bene Vediamo un attimino questi perché Allora, aspetta che non mi ricordo come si faceva a vedere il contratto Quelli rosso mi sa, sono quelli che stanno a scadere, ho sbaglio Vabbè, rinnova il contratto Ingegnere 43, un salame Quindi se non ne abbiamo un altro Responsabile sponsorizzazioni Ah, 3 settimane rimanenti, là ce lo fa vedere Questo rinnoviamo Quest'altro responsabile Lasciamo andare Quest'altro ingegnere Come detto fa abbastanza cagare E poi dobbiamo cercare qualcun reclutamento Che abbiamo? Consulente finanziario, un ingegnere Meteorologo signori E' arrivato il momento di recuperare qualcuno Un po' di soldi ce li abbiamo Allora prendiamo st'ingegnere e il meteorologo Poi l'altro ingegnere Li facciamo scadere il contratto E va bene Responsabile delle sponsorizzazioni Lo Diversità degli eventi Mettiamoci la gente Poi 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 Andiamo a vedere ricerca e sviluppo Quanti Abbiamo 8 punti Noi che volevamo migliorare Non mi ricordo Questi qua li avevamo fatti Mi sa Sì Mi sembra di sì Consenteremo Ok Mentre qua Aumenta la possibilità di trovare i membri della squadra rari Oppure Oppure Questi li avevamo sbloccati Ti hanno notato Aumenta i punti reputazione Questi li avevamo fatti Punti reputazione Oddio Le prestazioni Va bene in realtà Non c'è grande necessità Di migliorare Facciamo questo Dovessimo farlo Vai Ok Ora Calendario Signori Qua Gestione della squadra Vabbè mi segna perché questo qua sta scadendo il contratto Ma Va bene Vediamo se ci fa fare Eh ma qua il rally arriva subito Cioè dai Un po' di pausa Che cazzo è Garastone No manutenzione Per forza l'auto è allo 0% Facciamo un po' di manutenzione Signori Perché se no qua Non andiamo da nessuna parte Proviamo almeno a rimetterla un pochino in sesto L'auto Purtroppo i rally sono troppo ravvicinati tra loro Non abbiamo giornate praticamente di Di pausa o di sviluppo Quindi Non si può fare granché Vai Quattro Tre Due Uno Andiamo Vai Attenzione Frena Destra Tre Taglia molto Secca Sinistra Apre 50 Secca Sinistra Chiude Su Cima 50 Ah no Non è se sciù Ma che è Secca Destra Valla interna 70 Destra Due Corta Taglia poco Apre 100 Ma manutenzione perché Me la vede veste le gomme O stiamo sui cerchioni Sinistra 5 Apre 150 Destra Piena Su Salta Stai al centro 100 C'è un problema però eh Non è guidabile Sinistra 6 Su Salta Stai al centro 100 Destra 6 Lunga Su Dosso Stringi 200 Non la faremo mai Salta Stai al centro In Sinistra 6 150 Salta Stai a sinistra Stai a sinistra Stai al centro Al salto Franco Ma va Traffangulo Va Vabbè rifacciamo Capito Eh dai Che cazzo è 3 2 1 Ma scusa Via Ma ci possiamo fidati Sto salame Attenzione Frena Destra 3 Taglia molto Secca Sinistra Apre 50 Secca Sinistra Chiude Su Cima 50 Stiamo con molta calma Visto che Secca Destra Balla Interna 70 Non credo abbiamo le gomme No Restra 2 Corta Taglia poco Apre 100 Cerchione Style Qua Sinistra 5 Apre 150 Destra Piena Su Salta Stai Al centro 100 Sinistra 6 Su Salta Stai Al centro 100 Destra 6 Lunga Su Dosso Stringi 200 In centro Stai Cippa Franco Salta Stai Al centro In Sinistra 6 150 Stai Stai A sinistra Vedi Vedi Così si fa Franco Stai A destra Stai Al centro E' in Finlandia Si vola 100 Destra Piena Su Salta Stai A destra 150 Salta Grande Stai Al centro 150 Ma che centro Ok Continuiamo Ce l'abbiamo fatta Si Ok Va bene Va bene Abbiamo ammazzato Qualcuno Del pubblico Ma questi Sono dettagli Irrilevanti L'importante E che abbiamo Sistemato Un po' La macchina Non stava Messa Benissimo Non credo Che adesso Stia messa Meglio Però 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 Allora Prossimo appuntamento Del calendario Signori Si va Direttamente Alla prossima Al prossimo rally In Grecia E se non ricordo male Era un rally Piuttosto Difficilotto Allora Allora Eh vabbè Mettiamoci Quelli che c'ha Aspetta che pure Il meccanico Se sta Agente Agente No Il meccanico Mi serve E li devo pure Rinnovare Il contratto Allora Ci portiamo Come detto Un meccanico Un consulente Finanziario Che ci fa Risparmio Finanziario Meteorologo Vediamo un attimo Gli altri Ingegnere Ce lo stiamo portando Ingegnere Ricompensa Esperienza PR Manager Responsabile Sponsorizzazione Aspetta che c'è Da più soldi E l'ultimo Portiamoci Il meteorologo Potrebbe servire Spendiamo un po' di più Signori Abbiamo 30.000 Dollari Partiamo meglio Di prima Ma Va bene Va bene Facciamoci qualche Qualche tappa Lo iniziamo Anche il rally Di Grecia Poi lo proseguiamo Nel prossimo appuntamento Però almeno Qualcosina Riusciamo a combinare Forse Allora Vediamo Cielo sereno Vediamo subito Tutto Il meteo Vabbè Minaccioso Al 0% Poi abbiamo Terra Terra Un sacco di terra 4 Terra dura E 6 Terra morbida Via Abbiamo due tappe 6 E 6 Poi abbiamo Questa qua Da 19 Com'errebbe Con le dure Vabbè Partiamo con le morbide E poi Le dure Le mettiamo Per Le altre tappe Sono un po' più lunghette Già quella da 19 Insomma Impegnativa Vai Non stanno Informissima I nostri Membri Dello staff Però come detto Non pop up Neanche un evento Di riposo Per loro Quindi Cioè in realtà Mo c'era L'evento di riposo Ma siccome la macchina Stava messa Discretamente male Ho preferito fare Un attimino Di manutenzione Giusto Una punta Vai 5 4 3 2 1 Partenza 30 Sinistra 4 Corta 50 Sinistra 6 Chiude In destra Sinistra 6 Frena In sinistra 3 In destra 3 Non tagliare assolutamente 30 Non ci mancherebbe Attenzione che qua Come detto Sinistra 4 Frena Chiude 3 Media In sinistra Destra 4 Il rally di Grecia E tosto Per quel che mi ricordo E sinistra 3 Stringi Non tagliare In destra 2 Taglia E sinistra 3 Chiude In destra 4 E sinistra 3 Chiude Non tagliare E destra 4 Non tagliare Stringe 30 Sinistra 3 Chiude E sinistra 3 Qua o fai a ping pong Quei muri O te ne vai sotto Ai diruti Sì ma stai a sinistra In sinistra 5 Dossi Chiude In destra Piena 30 Attenzione Roccia interna Sinistra 5 Chiude In destra 4 Corta 50 Ora di cadere In qualche Baradro Stiamo andando lenti Attenzione Ma bisogna essere Un po' gaudi In sinistra 4 Corta Chiude 3 Tieni Destra 2 50 Che troia Attenzione Sinistra 2 Chiude 30 Destra 2 Taglia Poco Stringe In sinistra 2 Roccia interna Oh In destra 2 In sinistra 3 Stringe E destra 3 Chiude 2 Taglia poco Poi sta pieno De rocce Qua In sinistra 4 Chiude 3 Media E destra 2 Media 30 Sinistra 1 In sinistra Destra 2 E sinistra 3 In sinistra 3 In sinistra 3 Tieni In sinistra 1 Taglia poco In sinistra 2 Corta Taglia poco 50 Sinistra 2 Sinistra 2 Media In destra 1 E attenzione E attenzione Stai a sinistra Destra 4 All'incrocio Sud Dosso 50 Sinistra 3 Stringe 50 Destra 4 Taglia poco In destra Sinistra 6 Non tagliare In destra 5 Taglia poco Piano E sinistra 4 Allarga Valla esterna In sinistra 2 Stai a destra Dobbiamo assolutamente Recuperare Qualcosina E albero interno In sinistra 4 Corta In destra 4 Chiude Roccia interna In sinistra 6 50 Destra 3 Non tagliare Dossi 80 Dossi In sinistra 3 Insomma E destra 4 Taglia Ma è che qua in Grecia Gli altri Fanno così a cannone Scusate Un bel giocherà Più semplice In sinistra 2 Media Sinistra 5 Media Roccia interna Chiude 50 Questo è palesemente Più Complicato 70 Attenzione Incrocio Tornante Stretto Sinistro E destra 2 Corta Destra 3 Corta In destra 2 Apre E destra 2 Corta In sinistra 2 Corta E roccia Interna Sinistra 2 Stringi In destra 4 Non tagliare In sinistra 4 Media 30 E sta squishia Tanto però Si sente Che c'è poco grip Abbiamo pure i modi Sinistra 4 In destra 1 Vabbè per carità Noi nel mondiale abbiamo Un buon vantaggio di punti Però insomma Si serve pure la moneta Preferisco naturalmente Non distruggermi per I fossi Continuiamo a perdere Non tagliare In sinistra 5 Corta Preferisco comunque Non distruggere L'auto Che so soldi In stringe Destra 4 Chiude In sinistra 3 Corta E sinistra 3 Chiude In destra 3 Pieni Sinistra 2 Taglia Sì casino In destra 2 E sinistra 3 Media Stringi E destra 3 Stringe In sinistra 4 Non tagliare In destra 5 Apre In destra 4 Chiude Non tagliare E sinistra 3 Corta Apre In sinistra 4 Non tagliare In destra 4 Tieni In sinistra 3 Corta 80 Sinistra 4 Chiude In destra 5 Corta In sinistra 4 Chiude E arrivo E insomma Complicato Complicato La Terrell Di Grecia È piuttosto Difficile Da affrontare Perché Strade Strette Terriccio 10 secondi 10 secondi Di svantaggio Poi pietre Come se piovesse Vai facciamoci un'altra tappa Così andiamo poi alla La pausa Diciamo Dove possiamo aggiustare Un pochino Il veicolo Che stiamo cercando di trattare Che stiamo cercando di trattare anche in modo piuttosto decente Perché se no Sono comunque soldi Guarda lì come va la Toyota E a Hyundai invece Sapim Vai 3 2 1 Via Sinistra 3 Chiude In destra 4 In sinistra 3 Corta Non tagliare E destra 4 Corta 30 Sinistra 4 Non tagliare In destra 500 Attenzione Sinistra 3 Tieni Destra 4 E sinistra 4 Corta E destra 3 Corta In sinistra 3 Stringi E destra 4 Chiude In sinistra 5 Chiude 30 Su cima Destra 3 150 Vai Qua è un po' più larga La carreggiata In destra 4 E sinistra 3 Corta 200 Non toglie Che dobbiamo evitare Di farci uscire il male Attenzione Preno pesante Intornante destro Non tagliare 80 Destra 6 Corta Così Ma non è vero Ma Dio Cristo A parte la polvere Che si alza così a caso Ma poi che scivolata Piato Stamacchina In destra 3 Corta E sinistra 4 Non tagliare In destra 4 Non è c'hanno dato delle gomme sbagliate 5 30 Tornante sinistro Taglia poco 80 Destra 3 Corta In sinistra 4 Corta Sinistra 5 Prena In destra 3 Corta In sinistra 4 Chiude E destra 4 Corta Sinistra 4 Corta In destra 4 Corta 30 In destra 5 Corta 50 Destra 5 Stringe Sinistra 4 Stringe E destra 5 30 Sinistra 1 Media 80 Destra 5 Corta Chiude In destra 5 Sinistra 6 Chiude Roccia interna In destra 4 Non tagliare In sinistra 5 Merda Gira 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 E niente Ops Fa inversione In destra 6 Corta 30 Eh qua ci stanno A Fai il culo Eh perché Provo a spingere Un po' di più Ma è un attimo Qua Guarda La Intornante destro 50 Se provi a spingere Un po' di più Te ne vai alla gelo Sinistra 3 Stringe Attraversa 50 Destra 3 Tieni In A parte che scivola tantissimo Sinistra 4 Tieni Destra 4 E destra 3 Capisco che si scivola più Della Della L'asfalto naturalmente Ma qua mi sembra un po' eccessivo In destra 4 E sinistra 3 Media In destra 3 Corta E sinistra 3 150 Attenzione Freno pesante Destra 3 In sinistra 3 Chiude In destra 3 Tagliare 100 Attenzione Destra 4 80 Sinistra 4 Chiude 2 In destra piena E sinistra 4 In destra 5 Media E destra 5 Lunga Apre 50 Destra 2 Tieni Sinistra 2 Chiude E destra 2 Corta Non tagliare In destra 2 30 Sinistra 5 Media In destra piena E sinistra 5 Si soffre Si soffre Si soffre Signori Non va bene In sinistra 6 Oh Stai bene A posta E io si La macchina Non credo Frena Destra 3 In sinistra 3 Corta Apre Quella già Minimo Minimo 5 Corta Chiude 100 Mille dollari Ce li abbiamo buttati Con quella roccia Eh Lo dico E arrivo Minimo Minimo Ce li abbiamo buttati Eh vabbè Che dobbiamo fa Eh Attenzione Attenzione Lì Yaris La prendiamo No no Se ferma prima Bravissimo Bravissimo E signori Continuiamo a perdere Qua Ma Che dobbiamo fa Siamo settimi A 34 Secondi La Grecia Non perdona Eh Dobbiamo provare A Boh A Recuperare qualcosa Fare qualche punticino Non saprei Ma Comunque So che ci proveremo Nel prossimo appuntamento Mi raccomando 10.000 dollari Di riparazioni Onesto Perfetto Mi raccomando Ragazzi Come sempre Asciate like E condividete Per supportare Il canale Ci vediamo Alla prossima Per completare Le tappe Greche Abbiamo ancora Quella da 20 km E Un'altra 10 Quindi Una Trentina di km Più o meno Mancano Per Completare anche Questo rally Cioè C'è tempo C'è tempo Posso fare ancora più danni Ci vediamo alla prossima Cari Saluto a tutti Da Quel Taleale C'è tempo C'è tempo